Sindaco, se l'aspettava questa invettiva di Teramo 3.0 che fa anche il nome di suo fratello? Ma posso aspettare tutto da 3.0, insomma come si sono aspettati tutto, tante persone nel corso del tempo. C'è un modo di agire, di comunicare e di scegliere che appartiene ad alcuni e non ad altri. Il modo di fare politica anche comunicativa che appartiene ad alcuni e non ad altri. Con riguardo al caso di specie io non ho nessuna difficoltà perché voglio soprattutto che i miei familiari vadano a testa alta in relazione a queste accuse. A dire assolutamente che il sottoscritto ovviamente non ha mai alzato un dito per nessun familiare e tanto meno per suo fratello, per mio fratello Marco. Marco, mai, per nulla, per nulla. Questa però è anche un'occasione sai, perché mi consente di dire a Marco due cose che forse non gli ho mai detto. La prima è che mi scuso con lui, forse perché ho scelto questa linea e lui l'ha capita. E la seconda è che sono profondamente orgoglioso della vita che sta facendo tutto da solo e che si sta costruendo. Perché questo è poi il tema che va messo al centro, cioè il rispetto per la vita delle persone. Se l'è costruita da solo, tutto da solo, svolge questo lavoro che è di assistenza alle persone deboli, con la gioia e il sorriso delle persone che assiste. E gli posso soltanto dire che sono orgoglioso di lui. Paragonavo il fatto che anche a Ruzzo e altri enti ci sono delle cooperative che assumono, senza avere nessun tipo di rapporto all'interno, con gli uomini, il CTA del Ruzzo per esempio. È la stessa metodologia? Sì, i soggetti esterni, le cooperative esterne hanno la stessa tipologia e la stessa situazione. Dopodiché dovremmo andare a vedere se si tratta di persone che si sono candidate politicamente, con qualcuno o con qualcun altro, se qualcuno pensa di intimorirmi, di inibire la mia azione, sbaglia di grosso, perché sull'azione che abbiamo portato, posto in essere, stiamo portando in essere in piena trasparenza, in grande trasparenza, vado avanti e andiamo avanti nel rispetto di tutti, soprattutto dei cittadini.